Diciamo che un ruolo fondamentale sul rischio di sterilità è legato ai farmaci che vengono utilizzati. Abbiamo parlato di malattie che curiamo con l'intento di guarire e con un intento che è raggiungibile. Quindi dobbiamo, nel 2018 è impensabile, non pensare a questa problematica della fertilità, soprattutto per quanto riguarda malattie che spesso interessano persone in età fertile, persone giovani che, avendo davanti a sé la prospettiva anche di guarire, ovviamente poi devono essere nelle condizioni di poter progredire. Non ci possiamo accontentare di dire che tu sei candidato a fare un programma di terapia che ha un basso rischio di sterilità. Ad esempio, l'esempio tipico è quello del paziente giovane con l'infoma di Hodgkin. Paziente giovane, candidato a guarire, paziente che fa una terapia come la BVD che ha un basso rischio di sterilità. Non possiamo basarci solo su questo e dire, boh, allora non serve perché hai un basso rischio di sterilità, quindi non ci pensiamo, perché purtroppo non sempre i pazienti si fermano, non nel 100% dei casi, i pazienti risolvono con una prima linea e quindi possono utilizzare delle linee successive che possono avere un rischio di sterilità maggiore. Quindi il counseling è fondamentale. Nelle prime visite, nei primi colloqui con i medici è fondamentale. Penso che tutti noi qui, quando vediamo un paziente che deve, prima che venga avviato da un programma di terapia, devono, tra gli effetti collaterali che devono essere discussi e analizzati con il paziente, quello sul possibile effetto tossico, sulle gonadi, quindi il possibile effetto di sterilità, deve essere considerato. Esistono dei centri, io lavoro in Friuli Venezia Giulia, adesso vi posso portare l'esperienza del Friuli Venezia Giulia, abbiamo due centri in regione che si occupano della preservazione della fertilità, sia maschile che femminile, uno è a Pordenone e uno è a Trieste e noi, come pratica generale, al di là dell'età del paziente, ovviamente considerando l'età fertile, ma noi proponiamo ai pazienti di avere un colloquio con uno di questi centri, se interessati, perché le tecniche sono, al di là della cardiopreservazione dello sperma, che è una tecnica ormai consolidata, ma anche in ambito femminile esistono sempre nuove tecniche ed è fondamentale dal nostro punto di vista che chi illustra queste tecniche sia poi chi le fa, quindi assolutamente sì, colloquio informativo, proporre al paziente questa opportunità. Bisogna avere anche coscienza dei limiti, non sempre la situazione clinica permette di aspettare il tempo necessario, soprattutto in ambito femminile, all'applicazione di queste procedure, perché in alcuni casi possono richiedere anche diverse settimane, quindi purtroppo non sempre la condizione clinica lo permette. Un'altra cosa, sempre in ambito, è importante che anche i pazienti siano informati del possibile rischio teratogeno delle terapie, cioè di cosa devono essere informati, che i farmaci che andiamo a fare possono dare, qualora si sviluppasse una gravidanza nella paziente o nella partner durante la chemioterapia e anche negli anni successivi. Sulla tempistica per cui sarebbe bene evitare una gravidanza durante la terapia e dopo aver fatto la terapia non esistono dei dati così certi. Alcuni dicono due anni dopo la terapia, alcuni dicono tre anni, alcuni dicono un anno. Proprio per questo è importante che una persona che ha fatto un colloquio, magari all'inizio in uno di questi centri che si occupano di preservazione della fertilità, viene trattato, va in remissione e poi vuole pensare di procreare, è bene che abbia un altro colloquio in modo da pianificare non solo il momento corretto, ma anche quello che deve essere il follow up e i controlli che dovranno fare le persone nel corso della gravidanza.